Musica Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al vostro appuntamento con l'informazione in diretta di Antenna Sud. Apriamo questo appuntamento serale della domenica parlando della visita che Sergio Mattarella, il capo dello Stato, farà domani proprio a Bari, quindi nel capoluogo pugliese lunedì mattina. È il nostro servizio di apertura. Grazie a tutti. 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 di Fesano e i poliziotti del commissariato di Ostuni sono al lavoro per individuare i componenti della banda e impedire nuovi furti. E due rapine ancora invece a distanza di pochi minuti l'una dall'altra sono state commesse a Cerignola ai danni di due rivendite di articoli per la casa. Nella prima due persone con i volti coperti ed una delle quali armata con una pistola e queste due persone si sono fatte consegnare l'incasso di circa 400 euro e sono fuggite a bordo di un'auto. La stessa dinamica invece per la seconda rapina avvenuta in una zona alla periferia del comune Foggiano. In questo caso i rapinatori hanno asportato direttamente il registratore di cassa con l'incasso. Non è escluso che possa trattarsi della stessa banda. Indagini ovviamente sono in corso da parte delle forze dell'ordine che stanno verificando anche la presenza di impianti di videosorveglianza. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di politica, ci spostiamo a Taranto per parlare della crisi politica che coinvolge l'amministrazione comunale e ai nostri microfoni il consigliere comunale Stefania Fornaro. Ascoltate. Non ha ancora deciso nulla il bivio è da imboccare. Maggioranza o opposizione? Assessorato all'ambiente o un ruolo da svolgere sui banchi della minoranza? Stefania Fornaro riflette. La consigliera comunale di Taranto della Movimento Con sta valutando il da farsi e affida ai microfoni di Antena Sud il suo pensiero, infastidita da chi cerca di tirarla per la giacchetta o le attribuisce decisioni già prese. Non è lei, ribadisce l'ago della bilancia per il futuro del sindaco Rinaldo Melucci. Io ad oggi non sto tergiversando perché voglio giocare con l'uno o con l'altra parte. Io sono molto veramente fedele al mio movimento, al Movimento Con, che in questi anni comunque mi ha dato tanto. A me dispiace semplicemente che oggi la decisione che noi andremo a prendere, che io in primis andrò a prendere, è una decisione comunque sofferta nell'uno e nell'altro verso, perché abbiamo cercato di creare un gruppo di persone intorno a questo movimento e quindi vorrei che anche questa decisione fosse condivisa con le persone che mi hanno aiutato in questo anno e mezzo di consigliatura ad andare avanti e a portare avanti quelle che sono le medie politiche. Io ritengo che oggi la decisione più importante è quella di capire se effettivamente seguire quello che comunque è l'indicazione regionale di andare in opposizione o quella comunque di rimanere in maggioranza con delle motivazioni, però posso rassicurare tutti che quando prenderò questa decisione sarò io in primis a dirlo a tutti quanti, organizzerò una conferenza stampa, tutto ciò che sarà necessario per dare ai cittadini quella che è la verità dei fatti, perché fino ad oggi diciamo ci sono un po' troppe favole in giro. E adesso restiamo a Taranto, ma per parlare della importante manifestazione che si svolgerà proprio domattina a partire già dalle prime luci dell'alba, domani lunedì 29 gennaio e questo è il commento insomma pervenuto da Aigi, Casa Artigiani e Confapi che in una nostra stampa dicono Taranto e di tutti noi, abbracciamola insieme. Alla manifestazione di lunedì mattina promossa dai sindacati, quindi parteciperanno anche Aigi, Confapi e Casa Artigiani. Le parole delle tre associazioni datoriali sulla protesta sono state queste, una vicinanza che i più definiscono straordinaria probabilmente, perché non è mai stata realizzata in precedenza. In precedenza, una unione che è frutto di intenti comuni per cui non sono state necessarie di unioni estenuanti, compromessi e bilancini per sottolineare presenza, visibilità e il lavoro faticoso di quest'ultimo periodo. Questo insomma l'appello di Aigi, Casa Artigiani e Confapi. Chiediamo a tutte le associazioni di categoria e gli ordini professionali di unirsi alla protesta. Cerchiamo tutti insieme di arginare lo tsunami che starebbe per abbattersi sulla comunità. Taranto e di tutti noi dicono abbracciamola insieme. E noi ovviamente seguiremo questa manifestazione e vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Adesso cambiamo decisamente argomento. Si parla tanto di zone 30 nei centri cittadini. A Bari, ecco cosa ne pensano i baresi. Limite di 30 km orari nei centri abitati. Giusto o sbagliato? L'esempio di Bologna con successiva direttiva del Ministero delle Infrastrutture che impone il dover motivare eventuali scelte di questo tipo, fa discutere e divide. Il dibattito è aperto anche tra i cittadini baresi. Sinceramente sono un po' pochi. 50 diciamo che sarebbero giusti. Secondo lei quali sono gli svantaggi? Troppo lento. A questo punto vado a piedi. Troppo basso secondo me. È giusto da una parte ma dall'altra parte no. Ecco, quali sono gli svantaggi? Ci sono strade che c'è la possibilità da poter camminare, strade piccole che magari 30 all'ora sarebbero buone. Favorevole. Perché? Socialmente su questa zona qui. Le macchine vanno oltre i 100. C'è un problema culturale secondo lei alla base di tutto questo? Penso proprio di sì. Penso che i pedoni abbiano bisogno di questa opportunità di camminare tranquilli. I baresi eventualmente potrebbero adattarsi bene al cambiamento? Secondo me sì. 30 chilometri orari per i veicoli è un giusto compromesso o è troppo? Giustissimo. Perché? Per la sicurezza dei cittadini. Ci sono troppi incidenti, troppe persone che sono state investite. Pertanto, giustissimo. A seconda delle zone della città, io penso bene, penso positivo, perché laddove si è potuto fare, tranne Milano, i risultati sono stati buoni. E il dibattito sulle zone 30 è aperto anche nel Brindisino. Siamo a Francavilla Fontana, dove abbiamo ascoltato il senatore della Lega Massimiliano Romeo e l'assessore di Francavilla Fontana, Sergio Tatarano, proprio sull'argomento. Ascoltate. Nelle strade che sono non proprio relative ai centri storici, magari si possa invece superare. Superare. Ma sa, ma alla fine sa qual è il tema. Ribadire ogni tanto questi concetti per quelli che non capiscono come il sindaco di Bologna non è male. Grazie. Limitare la velocità delle auto a 30 km orari è giusto, ma non sempre, non ovunque. Al netto di polemiche e strumentalizzazioni, mentre impazza il dibattito a livello nazionale, il pensiero del governo Meloni sulle città 30 è cristallizzato nelle parole del capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, intercettato a Roma dal nostro inviato Francesco Manigrasso. Possono esserci dei principi generali, delle linee guida che il Ministero può mettere in evidenza. Le linee guida possono giustamente dire che è giusto andare a limitare la velocità a 30 km orari di fronte ad alcuni luoghi considerati insensibili per tutta una serie di motivazioni, scuole, asili. Qualche centinaio di chilometri più a sud, mica solo a Bologna, la fiera resistenza del concetto di città 30 viene portata avanti da Sergio Tatarano, assessore alla mobilità sostenibile del comune di Francavilla Fontana e qui nel brindisino che quelle idee di città slegata dalle auto e quindi sulla carta più green e in strada più sicura trova massima espressione tra isole pedonali, piste ciclabili e appunto istituzioni di zone speciali. Zone 30 sì, perché? Perché ce lo dice l'esperienza, ce lo dice l'esperienza di realtà molto più virtuosa delle nostre, del resto dell'Europa dove questo tipo di soluzione ha funzionato molto bene, dove si sono ridotti drasticamente sia il numero di incidenti sia la gravità degli stessi incidenti e dove è stato possibile accompagnare un processo di miglioramento delle condizioni generali e di sicurezza e nello stesso tempo rendere fattibile la condivisione degli spazi pubblici. Ci spostiamo adesso in Salento dove continua la protesta dei comitati contro i consorsi di bonifica che chiedono maggiore attenzione proprio per il settore agricolo. Martedì è previsto l'incontro con il prefetto e chiedono questi comitati, chiedono a gran voce, le dimissioni di Pentassuglia. Ascoltate. Dura risposta da parte dei comitati dei consorsi di bonifica nei confronti dell'assessore regionale all'agricoltura Donato Pentassuglia che nei giorni scorsi è più volte intervenuto riguardo l'annullamento, sospensione del pagamento del contributo consortile chiesto da mesi dagli agricoltori salentini dichiarando l'impossibilità della regione a procedere sull'argomento. Il punto inoltre è contenuto nell'articolo 30 della proposta di legge Omnibus sulla quale nei prossimi giorni il Consiglio regionale è chiamato ad esprimersi dopo i passaggi nelle ultime commissioni. La richiesta a tutti i consiglieri regionali da parte dei comitati è quella di ascoltare ancora una volta la voce del territorio e degli agricoltori salentini e chiedono le dimissioni di Pentassuglia. Da voci che arrivano sul territorio sembra che Pentassuglia non voglia recedere dalla posizione di approvare questo emendamento trovando la scusa della mancata copertura economica. Ma questa è una falsità che sta dicendo l'assessore. Proprio per questa falsità noi gli chiediamo le dimissioni. Un assessore che sta danneggiando l'agricoltura del salento per forza deve dimettersi e deve Emiliano nominare una persona coerente e che è a conoscenza della drammaticità del territorio. Prosegue intanto l'attività dei gruppi di protesta. Martedì a Lecce c'è una manifestazione organizzata dai comitati spontanei fatti da maggior parte dei giovani senza sigle sindacali. Invito il territorio ad essere presente martedì mattina a Lecce dove una delegazione sarà ricevuta dal prefetto. Ma il bello di questa manifestazione è che non si fermerà soltanto martedì 30 ma proseguirà anche non stop con la speranza che oltre all'assessore Pentassuglia ma anche il ministro Loro Brigida comprenda la drammaticità di questo territorio. E si torna a parlare di vaccini ed è polemica. scritte gravemente offensive di cui vi mostriamo anche delle immagini nei confronti dei medici sono apparse sul muro di recinzione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto con vernice rossa a caratteri cubitali sono stati presi di mira i vaccini e i tamponi. La sezione della Digos della Polizia di Stato è già al lavoro per tentare di individuare gli autori di queste scritte. Un gesto da condannare non si è fatta attendere la reazione della ASL Ionica. Le fonti interne dell'azienda sanitaria locale infatti riferiscono vergognoso gesto da parte di Sciacalli con l'obiettivo criminoso di minare la credibilità della struttura e l'autostima di eccellenti professionisti che quotidianamente prendono in carico professionalmente e umanamente migliaia di pazienti salvando la loro vita. Chi fa questo non ha a cuore la nostra città ma insegue cinici obiettivi dicono dall'ASL di Taranto. Ci spostiamo, andiamo a Francavilla Fontana nel Brindisino perché dopo una serie di polemiche finite sui social il sindaco Antonello Denuzzo pare che abbia revocato il divieto di accesso ai cani in villa comunale. Noi l'abbiamo ascoltato. I cani sono ben accetti in villa comunale purché al guinzaglio, purché i loro padroni siano civili dopo le polemiche per il cartello affisso all'ingresso dei giardini pubblici di Francavilla Fontana nulla più di una moderna versione del vecchio avviso poi replicato in buona fede dal gestore privato il sindaco Antonello Denuzzo chiarisce, revoca il divieto stesso e assicura agli amici pelosetti sono ben accetti. Il cartello verrà sostituito un'altra volta in modo da eliminare quel divieto di ingresso per i cani perché vogliamo che la nostra città sia inclusiva lo sia in maniera autentica, lo sia fino in fondo per cui eliminiamo il dubbio i cani possono entrare in villa d'altra parte chi ha affisso quel cartello lo ha fatto in buona fede replicando uno schema che c'era già prima cioè il vecchio cartello che era illegibile sembrava una vecchia pergamena da interpretare che portava quel divieto però ripeto, ai cani sarà consentito l'ingresso a condizione che i cani portino il guinzaglio a condizione se occorre che i cani portino la museruola e a condizione che i padroni siano educati che non è un errore affermare una cosa del genere ma mi riferisco proprio ai padroni perché come è noto i cani non sono maleducati ma qualche padrone è maleducato insomma il cartello della discordia sarà presto sostituito perché i cani in villa comunale possono entrare purché puliti e ordinati purché civili i loro padroni vorrei lasciare un messaggio ai pelosetti di Francavilla Fontana è un messaggio che possono tornare a beneficiare a fruire anche loro della villa comunale questo mi pare già importante Cambiamo decisamente argomento ci spostiamo a Taranto perché presso la Camera di Commercio si è svolto il convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Tributaristi L'APET si è parlato di riforma fiscale e moneta elettronica ascoltate riforma fiscale ed equità orizzontale l'argomento oggetto del convegno promosso dall'Associazione Nazionale Tributaristi L'APET è partito da Taranto in questo 2024 e si è svolto presso la Camera di Commercio della città ionica tra i presenti il segretario nazionale dell'Associazione Giovanna Restucci che ha ribadito l'importanza della moneta elettronica nella lotta all'evasione fiscale forse sarebbe il caso di fermare il punto su questa cosa dare una, se si vuole mantenere, una limitazione che sia, diciamo, duratura ecco, non come avviene nel nostro sistema fiscale che veramente c'è un dinamismo che a volte è anche di difficile poi attuazione per i professionisti perché oggi ci troviamo veramente a far fronte con dei cambiamenti troppo repentini 40 anni di attività per l'associazione che promuove eventi di carattere nazionale ed il cui presidente è Roberto Falcone, tarantino orgogliosamente a Taranto perché è la sede dell'ufficio di presidenza quindi dei nostri collaboratori di Taranto ma soprattutto è la città natale del presidente quindi siamo molto orgogliosi di essere qua ringraziando proprio di un'ospitalità che è sempre tipica di queste zone E apparsa una fotografia sui social su Facebook del postino dice posta per te in giro per San Giorgio Ionico siamo nel Tarantino ed è subito mistero su chi abbia ricevuto la busta dalla signora De Filippi Chi si nasconde dietro quel cuore? Chi è la fortunata ad aver incontrato a San Giorgio Ionico lo storico postino di C'è posta per te Marcello Mordino? Quale storia verrà raccontata dalla città tarantina sul piccolo schermo in tutta Italia? Sul social Facebook si è scatenata una vera e propria caccia alla donna della busta centinaia sono i commenti apparsi sotto la fotografia postata da un utente che ha infervorato la curiosità di moltissimi che vorrebbero conoscere in anteprima tutti i dettagli della storia che sarà raccontata in una prossima puntata del programma di Maria De Filippi centinaia di like, condivisione e commenti un vero e proprio caso mediatico e di mistero tanti nomi apparsi sotto il post Valentina, Martina, Lucia, Angela beh, noi l'abbiamo trovata ma non possiamo rivelarlo quello che possiamo dirvi è che la donna che è ripresa in fotografia non è la stessa della busta e non è neppure di San Giorgio e dunque cosa ci faceva il postino in quella città? beh, un mistero alla volta intanto la città tarantina si gode un bel momento di popolarità a Bari parte la prima delle due prove del ventiquattresimo campionato invernale vela d'altura città di Bari il servizio a Bari il mare torna ad essere protagonista in questo fine mese di gennaio arriva infatti la partenza della prima delle due prove del ventiquattresimo campionato invernale vela d'altura città di Bari valido per la selezione al campionato vela d'altura dell'ottava zona FIV Coppa dei Campioni 2024 ai nostri microfoni Gigi Bergamasco la partecipazione è buona ci sono sempre intorno alle 20 barche divise tra barche un po' più grandi e barche un po' più piccole c'è qualcuno che si è aggiunto nuovo qualcuno che già siccome ha barche un po' più competitive si sta preparando per gli appuntamenti più futuri abbastanza importanti quest'anno in Fuglia abbiamo il campionato italiano di Barche d'altura quindi c'è un programma che deve essere rispettato per arrivare preparati anche a queste manifestazioni più importanti le barche sono di altissimo livello però la cosa positiva è che si sono aggiunti tanti ragazzi tanti giovani che quindi daranno l'infa per continuare questa attività L'Umsa Università di Taranto organizza un master per consulenti del lavoro ascoltate L'attività formativa per noi è fondamentale perché è quella che crea diciamo da sostanza un po' l'attività del consulente del lavoro senza la formazione difficilmente si può continuare a operare Senza un'adeguata formazione difficilmente si può continuare ad operare e questo di certo non vale solo per i consulenti del lavoro professionisti che grazie alla collaborazione tra l'Umsa Università Taranto ed ente nazionale previdenza assistenza consulenti del lavoro hanno preso parte al primo step del master la transizione digitale nella poliedrica operatività del consulente del lavoro Stiamo investendo in diciamo piattaforme digitali che consentono o consentiranno ai colleghi di organizzarsi meglio Quella tra l'Umsa Università Taranto ed Enpac è una collaborazione cominciata già tre anni fa col proposito di formare figure esperte nella gestione delle risorse umane Ci siamo resi conto che nonostante questo corso abbia avuto un upgrading diventando un master la transizione digitale era inevitabile fondamentale nel considerare l'operatività del consulente del lavoro però ci siamo chiesti l'intelligenza artificiale può sostituire l'uomo Ecco perché noi andiamo ad analizzare soprattutto l'operatività del professionista rapportandola all'importanza del capitale umano occorre conseguire sempre più competenze per quanto riguarda proprio la gestione della realtà E sempre a Taranto si rinnova per il prossimo 25 febbraio il premio Giorgio Di Ponzio Diffusori di Bellezza un premio dedicato a chi dietro le quinte diventa un esempio per le attività svolte in favore della comunità Ascoltiamo Leo Spalluto Un riconoscimento per coloro che si spendono in silenzio per il bene del prossimo e dell'intera comunità Torna per la quinta edizione il premio Giorgio Di Ponzio Diffusori di Bellezza organizzato dall'associazione Giorgio Forever per ricordare il giovane tarantino sconfitto dal cancro all'età di appena 15 anni La manifestazione si svolgerà il 25 febbraio sulla palcoscenico della Teatro Orfeo fondamentale il supporto dei fratelli Adriano e Luciano Di Giorgio proprietari della struttura tra i sostenitori anche Mino Palmisano ospite d'onore della serata sarà la nota comica e cabarettista Valentina Persia fino al prossimo 15 febbraio sarà possibile lanciare candidature e votare inviando una mail all'indirizzo giorgioforever.it come spiega ai nostri microfoni l'organizzatore Angelo Di Ponzio papà di Giorgio Oggi apriamo un contesto che durerà fino al 15 febbraio dove all'indirizzo di giorgioforever.it chiunque può inviare una mail segnalando con supporto fotografico descrizione, relazione delle persone che sono distinte per qualsiasi cosa in ambito sociale in ambito di volontariato in ambito di assistenza in qualsiasi cosa che noi non sappiamo cioè qualcosa che è impercettibile nella vita quotidiana ma che c'è tanta gente che fa opere e non gli viene mai riconosciuto detto un grazie, un bravo una pacca sulla spalla niente e adesso vi parliamo di una nuova così sembra una nuova star del web guardate Marcur alias Marco Sergi da Montesano Salentino è la conquista del web è diventata infatti ormai una vera e propria stella dei social dove conta circa 700.000 followers e i suoi video in cui con sana ironia mostra come mantenersi in forma vengono visti da milioni di utenti sei appena finito il tuo allenamento giornaliero da dove è nata l'idea? l'idea è nata dal mio più grande sogno che è quello di motivare e ispirare le persone a raggiungere il loro massimo potenziale e farlo attraverso il corpo che è uno dei pochi strumenti che possiamo controllare nella nostra vita ecco il tuo corpo è perfetto ma effettivamente si possono raggiungere certi traguardi? assolutamente sì la differenza la fa il programma d'allenamento quando alla base abbiamo un'impostazione personalizzata per noi qualsiasi traguardo può essere raggiunto sei diventato ormai una star del web come hai fatto a raggiungere certi numeri e soprattutto cosa si prova ad essere così popolari? sono partito da un'idea che è quella di aiutare le persone molti di noi hanno gli strumenti per poterlo fare ma non sanno come poterlo fare la popolarità è una cosa alla quale vado poco mi dimentico che i contenuti stanno arrivando alle persone e cerco di rimanere sempre me stesso in ogni cosa per i telespettatori sicuramente pochissimi che ancora non ti conoscono sul web dove possono trovare le tue lezioni mi potete trovare sia su Instagram che su TikTok inoltre anche su YouTube dove faccio vedere chi sono cosa faccio e perché dovreste seguirmi trovate un sacco di spunti utili e di esercizi facilmente applicabili in maniera immediata chiudiamo con la musica Omar Pedrini ha mostrato il suo affetto per la Puglia nel suo concerto tenuto a San Giorgio Ionico nel Tarantino che ci vado a fare a Londra quando qui in Italia nella matapuglia i fan mi vogliono così bene deve esserselo chiesto più volte nel corso degli ultimi anni lo zio del rock italiano Omar Pedrini sul palco del Gibodisco Club di San Giorgio Ionico per un concerto lungo vivo vibrante un concerto rock che gioca con i ricordi quelli dell'ex leader dei Timoria e quelli dei fan del pianeta blu appunto di quel sole spento che a pochi chilometri dei guai dell'acciaio di Taranto porta il cantante all'ennesima riflessione la vivo come se fossi un Tarantino te lo giuro il dispiacere e poi di vedere questo ricatto morale che per avere il lavoro devi rischiare la salute è un ricatto a cui io che vengo da una famiglia operaia molto povera soprattutto quando ero ragazzino soffro perché so cosa vuol dire quando papà andava a lavorare in condizioni pericolose per portare a casa a noi ai suoi figli e a mia mamma il pane quindi mi metto nei panni di una famiglia Tarantina o di chi abita qua ed è un dramma che spero si risolva che deve diventare una priorità nazionale insomma è tutto per questa sera ha curato la parte tecnica Francesco Lozito restate aggiornati consultando il nostro sito www.antennasud.com dove troverete tutti i nostri servizi il prossimo appuntamento in diretta invece con la nostra informazione è per domattina alle 6.45 a tutti voi buona serata rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo a tutti i nostri programmi